No Vieni dentro ragazzi, vieni dentro Vai, fai da guida, andatene in fondo Un applauso ai nostri ospiti Dalla Carottieri Lazio La Carottieri Veloce Ordina Spezia La Carottieri Veloce Ordina Spezia Un bel gruppo, sono venuti più di 20 persone Vai, spinate anche voi qua Venite pure avanti ragazzi, venite pure avanti Purtroppo abbiamo un po' di spazio oggi E la Carottieri Adria Allora, io volevo vicino a me un ragazzo Giovanni, vieni tu Vieni tu qua Grazie